Donald Sinclair, il miliardario. Sembra assurdo, lo so, ma credo che sia regolare. Però dobbiamo decidere sì o no adesso, chiaro? Ok, noi siamo qui. Se tutti gli altri sono venuti in macchina, ho calcolato che abbiamo tre ore di vantaggio. Allora mi proponi... Di formare una società, Fossett e Schaeffer. Se vinciamo, dividiamo a metà. Ecco, puoi tenere la chiave. Cosa ne pensi? Non so che pensare, sono scioccata. Solo tre ore fa ero seduta all'aeroporto. Avevo un lavoro, leggevo un libro. Mio nonno diceva sempre, le cose buone richiedono tempo. Quelle fantastiche avvengono in un lampo.